Va ora in onda, pianeta oggi e venti nel mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Gentili ascoltatori, buonasera e benvenuti al nostro consuetto approfondimento pianeta oggi e venti nel mondo. In studio qui a Fontana Fredda Massimo Bonella, trasmissione che va in onda anche in collaborazione con il circuito Network Radio Science di Treviso. Saluto rispettivamente alle regie, dunque qui a Fontana Fredda Paolo Gavasso e a Treviso Rosario Moreno che gratuitamente ci ripete questa trasmissione di approfondimento sui problemi del pianeta, ma non solo, anche poi si spassa anche nell'ambiente, nella società, nella legalità con Antimafia 2000 ad esempio e così via. Trasmissione in collaborazione anche con alcune associazioni molto importanti, le ricordo a Pordenone abbiamo il Sicomoro che risponde al sito internet il sicomoro.com, poi abbiamo Antimafia 2000, scritto in lettere 2000.com, quindi abbiamo poi anche altre associazioni come ad esempio la Funima International che cerca di avere un'attenzione per i bambini di strada sostanzialmente. Su questi argomenti ultimi che ho citato ci ritorneremo prossimamente. Dunque, una comunicazione tecnica, ricordo che per quanto riguarda il settimanale quello televisivo che viene onda sul circuito delle TV terrestri, Pianeta Oggi Reporter, dunque per coloro che ci stanno ascoltando in Veneto e che seguono questo programma, devono sintonizzarsi sulla frequenza 690 da Piancavallo, che riesce a coprire anche il Veneto, di videotelecarnia. Dunque ogni sabato e mercoledì alle ore 23 circa, minuto più, minuto meno. A questo punto io do subito la linea allo studio 2 dove abbiamo pronto Alviano Appi dell'associazione Il Sicomoro che costantemente ci segue, ci dà una mano non indifferente e so che ha degli ospiti veramente molto importanti. Dunque a te Alviano per la conduzione di Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Noi ci risentiamo al termine. Grazie Massimo e grazie della partecipazione all'ospite che abbiamo con noi stasera che è Giorgio Bongiovanni, direttore della rivista Antimafia 2000. Allora ai nostri radioscoltatori abbiamo deciso questa puntata, ma penso che ne faremo anche delle altre, visto l'importanza dell'argomento, di dedicare uno spazio alla riforma costituzionale. Noi come associazione culturale qui di Pordenone fate salve le convinzioni individuali, ma come associazione noi sosteniamo il no su come esprimersi alla riforma elettorale. Allora e quindi siamo curiosi anche di conoscere la posizione di Antimafia 2000 su questo argomento. Allora intanto a te Giorgio una prima idea che avete voi sulla riforma costituzionale. Cosa pensate che sia? Qualche cosa che il Paese abbia bisogno oppure no? Io posso dare la nostra opinione tra virgolette politica, ma mi piacerebbe che questa trasmissione intervistasse, chiedesse a esperti del settore diciamo dal punto di vista tecnico, giuridico. Quindi consiglio di intervistare per noi il nostro redattore Aaron Pettinari e anche leggere lo spettacolo, il libro spettacolo che ha scritto Marco Travaglio. Perché no? Perché no? Dove ci sono dati tecnici anche poi messi sul piano diciamo semplice per la gente, recitati con un'attrice, sostanza per non annoiare i nostri radiascoltatori, praticamente la riforma in realtà è uno sfregio a nostro giudizio della Costituzione, cioè si vuole cambiare con la scusa della riforma di accelerare i tempi burocratici per quanto riguarda soprattutto la creazione delle leggi, abolire il Senato, la Camera molto più veloce. In realtà se voi ci fate caso leggerete approfonditamente le riforme scritte dal Ministro Boschi con ovviamente la volontà e il volere del Primo Ministro Matteo Renzi, voi vedete che ci sono molti raggiri in questa riforma della Costituzione, è uno sfregio, si dà molto potere al potere esecutivo, il potere esecutivo diventa una sorta di presidenzialismo nascosto, c'è il Primo Ministro ha un potere quasi assoluto sulle Camere, abbiamo poi la riforma della giustizia che viene accentrata forte sul potere del Procuratore Capo che solo teoricamente lascia liberi i propri pubblici ministeri nel fare delle indagini e delle inchieste, ma di fatto dirige lui, comanda lui, orienta lui, decide lui sulle inchieste, mentre ancora oggi malgrado tutto il pubblico ministero, malgrado gli ostacoli, malgrado le polemiche, malgrado le divisioni, malgrado tutto, ripeto, il pubblico ministero ancora una volta che ha un'indagine è pressoché che è indipendente nello svolgerlo. Insomma, praticamente quel piano di rinascita che Licio Gelli voleva quando era capo della loggia massonica P2, ripreso poi da Berlusconi, Matteo Renzi lo sta completando. Quindi c'è una manipolazione dell'informazione e poi c'è una pressione nel votare sì alla gente che si sta, grazie a Dio, a mio giudizio, si sta ripercuotendo contro il primo ministro, la gente comincia a dubitare, comincia il fronte del no a crescere, in sostanza le persone dicono, ma se abbiamo una bellissima Costituzione, il problema non è la Costituzione scritta dai nostri padri costituenti, il problema è che non la applicano, o viene raggirato, viene applicata male. Quindi io sono convinto che è una situazione la più grave della storia della dopo Seconda Guerra Mondiale e quindi su questo fatto noi abbiamo su Antimafio 2000 creato un banner, una pagina, il fronte del no, dove cerchiamo di spiegare il perché votare no e non calare la testa, usando un termine siciliano, a questa pseudo riforma perché rischiamo molto che la nostra democrazia già molto precaria, che viene messa sotto pressione, viene ostacolata, triturata da organizzazioni criminali, tra terrorismo, corruzione ai vertici del potere politico, una democrazia molto debole, molto a rischio con la riforma della Costituzione, noi consideriamo che viene completamente abbattuta e in Italia calerebbe una specie di oscurantismo o se volete ancora sapete che io sono un provocatore che avrebbe una specie di regime latinoamerica anni 70 camuffato da democrazia, dove rischiamo repressioni molto crude, dove la magistratura, l'ultimo baluardo, malgrado tutto, malgrado i limiti, gli errori, i peccati e gli irreati che alcuni magistrati hanno commesso e commettono, rimane la magistratura statisticamente parlando, uno dei tre poteri che ancora in qualche modo riescono a tutelare i diritti dei cittadini, perseguendo i corrotti, i criminali, le associazioni mafiose, le associazioni terroristiche e con questa riforma la magistratura diventerebbe, lasciatemi passare il termine, una specie di procuratore del re ai tempi di Luigi XVI, delle grandi monarchie imperialiste del dopo medioevo, durante il medioevo fino a giorni prima della rivoluzione francese, questa è la mia opinione. Guarda Giorgio, intanto ti ringraziamo di questo volo generale che al di là dei tecnicismi sicuramente importanti fanno capire i rischi che ci sono nel votare sì, un poco tu hai citato poco fa che la volontà della loggia masonica P2 in qualche modo troverebbe attuazione in questa Costituzione. Io vorrei anche una riflessione tua su questo, vorrei menzionare e tra virgolette lo facciamo proprio virgolettato, un desiderata della grande banca americana JP Morgan che il 28 maggio del 2013 faceva questa considerazione, i sistemi politici dei paesi del sud Europa ed in particolare le loro Costituzioni adottate in seguito alla caduta del fascismo presentano caratteristiche inadatte a favorire l'integrazione e qui leggi l'integrazione dei mercati e c'è una forte influenza di idee socialiste e poi conclude, per colpa di queste idee socialiste non si riescono ad applicare le necessarie misure di austerity perché gli esecutivi, cioè i governi sono deboli nei confronti dei parlamenti e ci sono tutele costituzionali dei diritti dei lavoratori e perfino la licenza di protestare se vengono proposte modifiche allo status quo, quindi c'è perfino nelle nostre Costituzioni è previsto perfino la libertà di sciopero per dire, ci sono delle difese dei diritti dei lavoratori e quindi in qualche modo ci sono anche secondo te pressioni, veramente vengono raccolte pressioni esterne da questo governo? quando è accaduto quello che sappiamo sempre, cioè che sono intervenuti gli Stati Uniti d'America nella persona dell'ambasciatore quando ha detto spudoratamente in un paese violando l'indipendenza politica, la privacy politica, la privacy tra virgolette, cioè il fatto che noi non possiamo avere ingerenze esterne soprattutto quando si tratta di campagna elettorale e nessun paese può interferire soprattutto i rappresentanti di governo di altri paesi e non possono aderire alla campagna elettorale di questo e di quello, mentre gli Stati Uniti d'America spudoratamente in forma da considerare il nostro paese è la 51esima stella degli Stati Uniti d'America, l'ambasciatore di origini italiane tra l'altro ha detto votate sì perché le riforme sono importanti, quindi dando un segno che l'Italia di fatto non è mai stata o perlomeno quando qualche statista protestava e cercava di rendere il nostro paese indipendente sotto tutti i punti di vista ci ha rimesso la pelle come Aldo Moro e altri statisti italiani e quando interferivano nelle decisioni d'oltreoceano il segno è chiaro, è logico che questa riforma se viene dal governo ha l'approvazione e se il governo ha una sintonia con la Casa Bianca, col governo attuale o precedente della Casa Bianca e la Casa Bianca non fa nessun commento, addirittura temendo una sconfitta del no, manda in avanscoperta l'ambasciatore su tutti i giornali italiani, nazionali, dichiarando spudoratamente, sfacciatamente direi io, dichiarazione di voto interferendo in forma quasi illegale, forse illegale, non lo so, ma comunque antietica sulle nostre decisioni interne e questo è gravissimo, questo vi dà la misura di come il nostro paese siamo messi in una situazione molto grave, noi abbiamo vari fronti da combattere, il fronte della politica della corruzione, il fronte della criminalità organizzata che incalza sempre di più, il fronte del terrorismo per quanto il nostro paese grazie a Dio fino adesso è stato risparmiato, il fronte dell'immigrazione che una politica, hai letto bene Alviano, una politica direi quasi fascista, incombe su questi poveri disgraziati che quando nella migliore delle ipotesi li accogliamo li mettiamo in dei ghetti infernali da farli marcire di caldo o di freddo, quando un paese come l'Italia la settima, forse la prima potenza mondiale come talento economica, la settima di fatto potenza mondiale economica che ha un'isola come la Sardegna praticamente deserta, dove si potrebbero costruire delle accoglienze decenti con la grande produzione economica che noi abbiamo, la grande solitarietà, il grande clima che noi abbiamo e quindi noi siamo soltanto messi nelle mani di corrotti, corruttori e corruttibili e poi abbiamo anche le grandi banche italiane fino a poco tempo fa molto forti e resistenti, si stanno sgredolando anche loro, quindi siamo in balia degli Stati Uniti d'America, non siamo più né alleati e né succubi, siamo proprio in balia di questa potente nazione che rischia oggi, come diceva il grande attore Tom Hanks in l'ultima intervista che ha rilasciato, noi stiamo per cadere, anche noi tra poco se vince Trump avremmo il nostro Berlusconi e otto anni se vince tutte e due le elezioni di decadenza totale, speriamo che non vince diceva Tom Hanks, immaginate un'America governata da un personaggio maschilista, fascista, razzista come Trump se vince o anche Hillary Clinton, certamente non una santa ma ovviamente è politicamente una guerra fondaia, già l'Italia è messa male da sola, immaginate che fine possiamo fare, quindi la nostra speranza di vincere con il no è per mantenere ancora un po' la schiena dritta e grazie a questa straordinaria Costituzione in un certo senso possiamo fare battaglia ai nostri fratelli maggiori, alleati, quasi padroni americani che se dovesse vincere il no questa Costituzione così forte darebbe grande filo da torcere, è quasi impossibile dominare, prendere nelle mani un Paese con una Costituzione così forte dove i tre poteri esecutivo, legislativo e giudiziario sono molto paralleli e in forma assolutamente indipendente che si controllano l'uno con l'altro malgrado tutto, ma se noi facciamo vincere il sì non avremo più tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario ma avremo solo un potere, quello del Premier che sarà una specie di Presidente della Repubblica dittatore che farà cadere nel baratro dell'autodistruzione politica, economica e sociale il nostro Paese. Allora Giorgio, grazie intanto anche di questa seconda visione generale molto profonda, un'ultima considerazione ti volevo fare, questa riforma elettorale e anche quella costituzionale non erano previste dal programma del PD che era stato sottoposto ai cittadini alla elezione del 2013 e che sono quelle elezioni che hanno dato vita poi alla maggioranza parlamentare del governo Renzi, anzi il programma del Partito Democratico prevedeva una legge elettorale che restituisce ai cittadini il potere di scegliersi i propri rappresentanti in Parlamento e l'applicazione corretta ed integrale di quella costituzione che rimane la più bella e avanzata del mondo, le ultime tre frasi le ho dette virgolettate. Allora io ti volevo chiedere, ma queste istituzioni secondo te non c'è in Italia un clima di… la parola illegalità non è corretta, ma di grave decadenza dal punto di vista istituzionale, perché degli uomini che rappresentano le istituzioni si permettono nell'arco di tempo brevissimo di fare il contrario di quello che affermano, di fare cose che non avevano messo nel programma e se pensiamo a Giorgio Napolitano per parlare forse della massima istituzione o comunque di un'altra istituzione prevista appunto dalla nostra Costituzione, quella di addombrare determinati fatti come quelli che sono accaduti quando ha impedito alla magistratura di far conoscere le telefonate avute con il Ministro Mancino. Allora questi rappresentanti delle istituzioni si possono veramente considerare degni, autorevoli nel clima della Costituzione secondo te? Non c'è una deriva? L'ultima parte non l'ho ascoltata, scusami se la vuoi ripetere, gli ultimi 30 secondi. Sì, desidero dire, allora un Presidente del Consiglio che nell'arco di poco tempo cambia completamente quello che aveva promesso candidandosi, un Presidente della Repubblica come Napolitano che impedisce ai magistrati di far conoscere all'opinione pubblica il contenuto delle telefonate avute con il Ministro Mancino, ma queste figure istituzionali non adombrano un poco, cioè non tolgono forza a quello che l'istituzione dovrebbe essere? Se fosse demenza o stupidità potremmo dire purtroppo ancora una volta i nostri politici sono dementi, stupidi, purtroppo c'è una regia a mio giudizio albiano, c'è una regia molto chiara, il partito cosiddetto della sinistra comunista storico definitivamente è scomparso. All'interno di questo partito democratico pseudo di centro-sinistra sono rimasti pochissimi politici ancora legati a quelle idee per quanto discutibili però a livello laico, le idee di Gramsci, le idee di Berlinguer per quanto riguarda la nostra epoca, Gramsci il secolo scorso, grandi idee rivoluzionarie di solidarietà, di amicizia, di fratellanza, di diritti umani. Questi personaggi del partito democratico di oggi sono rimaste magari le facce, le facce che seguivano questi grandi statisti, il più conosciuto di tutti, senz'altro Berlinguer, sono rimaste le facce di D'Alema, di Fassino, di Bersani e di altri che seguivano questa linea di conduzione di Berlinguer ma di fatto sono morti, sono delle facce, delle maschere di Bersani, non è più Bersani, D'Alema non è più D'Alema, il giovanotto Renzi è figlio non della sinistra di Berlinguer ma è figlio della destra di Forza Italia vestita da partito democratico perché la politica del primo ministro al quale come istituzione io le do rispetto ma non ha il coraggio, anzi come lupo vestito da agnello non sto facendo altro che portare avanti la stessa politica di Berlusconi il quale dall'alto della sua vecchiaia ottantenne rivendica io, Renzi sta portando avanti il mio programma e non ha tutti i torti Berlusconi, quindi all'interno c'è una specie di opposizione dello stesso D'Alema e di altri, qualche personaggio che è rimasto nostalgico ai vecchi valori per quanto condivisibile o meno ma comunque che ha fatto tante battaglie come Giuseppe Lumina che non è nemmeno più nel PD ma nella lista di crocetta, comunque ci sono poche persone, la signora, il presidente della commissione parlamentare antimafia Rosi Bindi che cerca in qualche modo di restare in quel centro-sinistra che ormai non c'è più, di fatto… Mantenere uno spirito diciamo di certi valori… Di fatto questo partito è stato completamente distrutto dalle idee di destra e soprattutto è stato assorbito completamente da quando è al potere, da quando governa, fatta eccezione forse per una piccola parentesi di Prodi, ma è molto discutibile, ne dovremmo parlare magari in un'altra trasmissione, è stato assorbito dalla politica americana degli Stati Uniti d'America, quindi noi non c'è più in Italia una politica di destra o di sinistra. L'ultima speranza, l'unica forse, sono rimasti il Movimento 5 Stelle, il quale movimento non sappiamo, veramente nel senso di ignoriamo, se dovesse vincere le elezioni, cosa questi ragazzi riuscirebbero a fare nelle stanze del potere. Certo, non hanno nessuna esperienza né astuzia politica, hanno l'onestà molti di loro, la loro leader, tenendo presente che ha avuto il merito di creare un vero movimento rivoluzionario, pacifista, politico che è arrivato dove è arrivato, non ha certamente Grillo, può fare il comico, l'artista, l'attore, ma non certamente può fare lo statista. Ci sono dei buchi neri anche nel Movimento 5 Stelle, che gli stessi leader dei 5 Stelle si fanno delle domande e non hanno tutte le risposte, perché per esempio Grillo non parla mai di lotta alla mafia direttamente, lo fa fare solo ai suoi ragazzi, a Palermo i suoi comizi sono più comici di aggressione nei confronti della mafia, detto questo rimane comunque l'unica o l'ultima, non lo so, speranza, questo movimento che l'Italia possa mantenersi ancora un paese libero e quindi credo, se non ho errori, non prendo errori, non mi intendo molto di politica, ma credo che il Movimento 5 Stelle ha aderito alla campagna del no, quindi speriamo che rimanga coerente e che in questa battaglia insieme noi cittadini comuni, del volontariato delle associazioni antimafia, che siamo antipolitici nel senso dell'antipartitismo, speriamo che il Movimento 5 Stelle sia con noi e noi con loro e nel vincere, perlomeno questa battaglia, di salvare la Costituzione. Dopo vedremo cosa fare per vincere le elezioni. Allora Giorgio, grazie molte, abbiamo praticamente consumato il tempo a nostra disposizione. Spero di essere stato esaustivo, non so. Sei stato molto esaustivo, soprattutto perché c'è bisogno di calare, prima di scendere nel particolare c'è bisogno di avere un concetto generale delle cose che secondo me tu hai espresso molto bene. Quindi noi ti ringraziamo e avremo modo di approfondire, come tu ci hai consigliato con Aaron Pettinari, gli aspetti più tecnici di questo no alla Costituzione di molti cittadini, tra cui anche la vostra rivista. Stato, no alla riforma di Renzi. No alla riforma di Renzi, sì scusa. Anche se possiamo dire che su questi 47 articoli che verrebbero cambiati, possiamo anche dire che un paio forse li avremmo votati anche noi, per esempio l'abolizione del CNEL, che è il Consiglio Nazionale Lavoro ed Energia, che vede 120 persone esperti di energia e di lavoro che costano tra i 15 e i 20 milioni, che nell'arco di tutti gli anni non hanno mai prodotto qualche cosa di utile. Certamente ci sono degli articoli che potrebbero, lo riconosciamo tutti, lo riconosce persino il più, tra i giornalisti più forti nel difendere la Costituzione, cioè Marco Travaglio, nel suo libro stesso che io ho letto ci sono delle cose che si possono cambiare, ma da qui manipolando la Costituzione stessa e la mente della gente a cambiare articoli fondamentali della Costituzione ce ne corre. Certo. Bene, ringraziamo Giorgio Bongiovanni, riprendiamo momentaneamente la linea qui agli studi di Fontana Fredda. Grazie Giorgio, grazie molte. E qui, allora, noi abbiamo in scadenza il tempo, avremo modo di ritornare su questi temi anche con degli altri nostri iscritti e come abbiamo promesso anche con Aaron Pettinari e quindi una buona sera a tutti i radioascoltatori di Radio Piper. A te Massimo. Sì, grazie. Scusa, grazie ad Albiano Appi per la, devo dire, ottima conduzione, abbiamo ascoltato delle cose che ci vanno, o comunque ci devono fare veramente riflettere. Dove sta andando a questo paese? Dunque, io prima di chiudere ricordo ancora le frequenze di Radio Piper Fontana Fredda, che modula dal 1981, da 88 e 800, 93 e 800 MHz in esterofonia per tutto il nord-est d'Italia, Istria inclusa. Questa trasmissione viene anche ripetuta gratuitamente dal circuito network Radio Science Online. Saluto le rispettive regie, inizialmente la nostra qui da Fontana Fredda, Paolo Gavasso e quindi la regia, quella centrale che poi coordina tutto il network online di Rosario Moreno. Prima ancora di chiudere una informazione per coloro che ci seguono dal Veneto, per vedere la versione televisiva di Pianeta Oggi Reporter, che è sempre un settimanale diciamo simile a questo, a Pianeta Oggi mentre nel mondo, ecco, dunque possono sintonizzarsi sulla frequenza 690 da Piancavallo, che comunque si riceve anche con l'antenna rivolta verso i cogliugani. Dunque, ricevendo nei propri apparecchi televisivi, la videotelecarnia Pianeta Oggi Reporter ogni sabato e mercoledì intorno all'ora 23. È tutto per questa sera, da Radio Piper Fontana Fredda, grazie per averci seguito, vi lascio ora alla Non Stop Music, noi ci sentiamo la prossima settimana. Gentili signore e signori, buonasera da Massimo Bonella. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo, a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Grazie a tutti i giovedì!